Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Contins e oggi siamo ancora insieme a Bianco E stiamo facendo coppie Uh lancia razzi Ragazzi non sapete cosa è appena successo Abbiamo appena fatto una partita, abbiamo fatto un video Abbiamo vinto Dovevo scaricarla sulla tonnetta Ma non mi chiedete come il video scomparso E lo stiamo rifacendo Ma era una vittoria bellissima E vabbè cercheremo comunque Riproveremo a vincere Riproviamo non so Mi serve un pump Io ho 6-4 e io sono uno scarico e una pistola Ok un pump abbiamo vinto Ho lanciarazzi ma te ho chito Sì sì Dai se si vince questa non si elimina Ve lo prometto Vai andiamo andiamo Matteo Ok sparano davanti a noi Aspetta che gli lancio le C4 Ci stanno spara bene ma Ok Peccata me Da te? Da te Cavolo No no più no più no più aspetta Un tiro Un tiro Un shield Da dietro di me L'ho colpito Aspetta 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 Fatto con la pistola A terra scusa che te l'ho rubata Lo so Ho uno shieldone ma te me lo devi far Fa a me Oh mi sparano mi sparano Matteo Ho trovato il fatto Matteo mi sparano mi devi aiutare Adesso Mi devi aiutare vieni È morto? Ce ne sono altri però Mi lo curare Matteo l'ho un dito Attenzione bianco Aspetta che me lo chilo me lo chilo Addirittura Ah perché sparano cioè sento sparare Aspetta risparmata è quale a quale è l'aspetta Già so dove sono Ci abbiamo anche dietro Wow Ok andiamo qua davanti Aspetta 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 Ok non l'ho preso mezzavolta Vieni da me Oh L'ho fatto l'ho fatto Non me lo chilo Ok Ok adesso andiamo a cucciare questi qua davanti Lo chilo uno io Uno là sopra Quindi no secondo me dobbiamo cucciare questi qua che stavano qua Ho pensato che era uno No era uno No Matteo uno là è bianchissimo mi sa che Cioè se ne è andato Da là eh Venti bianco venti bianco Dai non me lo rubare Fusciali Ho un'idea ho un'idea Se sono scarsi non si coprono Ok mi sa che lo prendo Non ci credo No Hai preso? No Lasciamelo Lasciamelo Sinceramente una ghila un po' omigliante Matteo 6 eh Perché? Eh fra io ho fatto due eccetto pure a quello No ma Gli ho fatto venti 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 Non si era curato con lo sparabende? No 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 Ero io con lo sparabende Ho sentito lo sparabende Ero io con lo sparabende Ah allora no niente Vedi Scendi giù Scendi giù qua Giù? Sì Ho ora di morire o che no Eh no non so Oh no Sì Insomma prestigio vabbè proviamo se non lo so buona rientro la teglia aspetta per pacca spacca c'è uno pure la sopra solo i tuoi volessato una sopra sopra la scuola doppio settanta ma parliamo c'è la sinfonso fida di cina uri della 6 volevo dire prendo lo scorsico oh ma non ci chiedi ma ti fidi che ci dobbiamo andare eh vabbè volevo morire no mi era ucciso no le mie sette kill buttate bravo il ca ma ci siamo un po' se non li vuoi curare si prendimi la cura prendimi la schedina no sorry è vero lo so che mi devo fare sta cosa mi sa si vai 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 anzi no perchè no fa lo sparabende lo sparabende non te lo sparabende ce la dovrei fa prendo l'elicottero scappo però secondo me devo dire vai la sarazzico zero colpi eh lo so te lo dico stai sull'aereo non ci puoi curare non mi non mi ci fa salire nooo sono morto no adesso provo adesso te lo giro non ci posso credere vado raga non ci posso credere devo andare a piedi vabbè lo spar vabbè ce la dovrei fare in teoria credo sì penso che con lo sparabende ce la fai però piano 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 devo fare così secondo me mi dovrei sicurare a foresta eh sì no per favore non posso morire così no per favore non posso morire così no per favore non posso morire così raga non ci posso credere è un signor del destino questo la devi vincere no vanno a curare no non mi andare a curare sì dovrei andare a far provare anche lo shield se ci penso mamma mia ma è partita la safe no no ma sì che è partita ma tanta allerta ce la fai a curarmi ce la fai ce la fai fidate che ce la fai no no non ti ferma fermo no non ce la faccio sì fra fidate se aspetti che ti curi del tutto sì fatti questi fatti quelli non si cavolo è la safe quanti curano quanto curano dove si deve andare a curarmi se no fra sei no vada al pozzo matteo non posso ma poi guarda questi stanno abbedenati fida di matteo ci provo si 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 ma non pensai che facciamo a dire la safe 2 se non vado adesso ma sicuro mi sa il posto ce l'ho dovuto fare fa problema con zero così che lanciare a teoria c buco per favore di perché c'è stato colpito c'è raggi sì no ok un pompo abbiamo vinto abbiamo vinto addirittura si si ho piccato vabbè ragazzi non ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto il possibile e niente ci vediamo in un prossimo video bella 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 bella